Ma io penso che questa città in questo momento, intesa come città, ma anche la città intesa come squadra non ha proprio bisogno di polemiche che non fanno bene a nessuno. La squadra va sostenuta da tutti nei momenti belli e nei momenti difficili, adesso sicuramente non è un momento tra i più facili, ma comunque siamo tra i primi in campionato, abbiamo grandi prospettive e quindi il Sindaco di Napoli non si inserisce in queste polemiche che non condivide e quindi esprime massimo sostegno alla squadra, vicinanza e facciamo fatti come sempre sullo stadio, tanto è vero che abbiamo avuto l'apprezzamento di tutti per il lavoro che stiamo facendo, che si porterà a compimento nella sua interezza prima delle universiadi e quindi mi fermerei qui a Napoli ringraziando i napoletani, tutti i napoletani ci sono tante cose che funzionano, poi ci sono anche le cose che non funzionano, di cui certe volte i napoletani o quasi sempre sono le vittime, ma invece diciamo che questa città si sta riscattando nel calcio, ma si sta riscattando molto, devo dire la verità nella città, la città ha già vinto alcune partite, ci auguriamo che quest'anno vinciamo anche lo Scudetto, così vinciamo sia come città che come squadra. Grazie. Grazie.